Nel 2012 il gruppo Acno ha aperto la divisione Acno Hotels, che realizza complessi alberghieri con camere business e di lusso, dove il comfort e l'attenzione al dettaglio assicurano un'esperienza assolutamente indimenticabile. Strutture progettate e realizzate in collaborazione con Acno Energy, che sfruttano l'energia solare, dotate di impianti geotermici e con illuminazione completamente a LED. Hotel dotati di ristoranti di prima classe, bar, negozi e luoghi di svago che garantiscono agli ospiti una qualità oltre le aspettative. Un approccio innovativo che mette sullo stesso piano visitatori e lavoratori dei business park adiacenti, favorendo quella sinergia fondamentale nel settore alberghiero. Viali alberati, aree verdi e fontane promettono subito un soggiorno di alto livello. Gli spazi ricreativi sono stati pensati come un luogo per ritrovare tutta l'atmosfera del relax, grazie a finiture di pregio e a una ricercata eleganza di insieme. Gli ospiti possono dedicarsi allo shopping, passare il tempo libero in palestra, in piscina e nelle aree giochi per bambini. Possono scegliere di rilassarsi con un aperitivo in eleganti zone lounge e organizzare meeting di lavoro in conference room spaziose e confortevoli. AcnoHotels oggi rappresenta lo stato dell'arte nel settore alberghiero. Grazie a un profondo studio delle strutture architettoniche e della loro sinergia con servizi e comfort, AcnoHotels ha ridisegnato il concetto di accoglienza. Grazie a tutti.